Ciao! Allora, per il video del giovedì, oggi, vorrei farvi una piccola carrellata di mudra, però non per la meditazione questa volta. Vorrei proporvi delle mudra che possono, diciamo, aiutarci nei momenti in cui magari abbiamo qualche fastidio, qualche problemino fisico, diciamo così. In questi giorni ho avuto parecchio mal di testa e quindi la prima mudra che vi propongo, io ne ho sofferto tanto in passato, da quando faccio yoga ne soffro decisamente meno, però comunque il mal di testa è qualcosa che ogni tanto mi assilla. Rughetta, per favore, puoi toglierti da lì? Vabbè, oggi siamo in compagnia. Quindi la prima mudra si chiama Maha Shirsha Mudra. Maha in sanscrito vuol dire grande, Shirsha vuol dire testa. Quindi è una mudra che lavora sul testone. Allora, come si fa? Giriamo i palmi delle mani verso l'alto, portiamo l'anulare alla base del pollice e poi portiamo il polpastrello del pollice a contatto con l'indice e con il medio. Quindi l'unico dito che rimane libero è il mignolo. Ok? Quindi anulare alla base del pollice, pollice che tocca indice e medio e mignolo che rimane disteso. Possiamo farlo con entrambe le mani, quindi facciamo la stessa cosa e manteniamo la mudra. Allora, in genere, ecco una cosa, sul mio canale Instagram di Shiva Flow ho fatto una piccola guida che ho intitolato, se andate sul canale, correte verso destra, andate sulla pagina delle guide. Ho fatto una guida dedicata solo alle mudra utili, si intitola mudra utili. E quindi lì potete trovare poi una piccola descrizione e le foto con il dettaglio della mudra. Quindi, maha shirsha, in genere le mudra si tengono almeno 5 minuti per far sì che possano avere effetto. Per maha shirsha, l'indicazione è tenerla almeno 3 minuti, per cui non occorre tenerla 5 minuti. Però, insomma, se riuscite a tenerla un po' di più, sicuramente è più efficace e vi permette anche semplicemente di rilassarvi, stare lì ad ascoltare, chiudere gli occhi, concentrarvi sul respiro, quindi cominciando a spostare un po' l'attenzione. Allora, portando l'anulare, che è l'elemento terra, alla base del pollice, che è l'elemento fuoco, riduciamo completamente l'energia dell'elemento terra, allontanando quindi la pesantezza, diciamo. Mentre lavoriamo per portare quel libro sulla nostra parte più leggera, cioè sull'indice, che è l'aria, vaiu, e sull'anulare, che è akasha, cioè lo spazio, l'etere. Quindi questa è la prima mudra che vi propongo. La seconda mudra è dedicata al male alle orecchie. Visto che prima o poi arriverà l'inverno, potremmo avere problemi legati al male alle orecchie, ma anche a quel dolore alle orecchie che è legato alla sinusite. Per cui ho pensato a questa mudra, che si chiama Shunya mudra. Sempre palmi rivolti verso l'alto, questa volta pieghiamo il medio verso il palmo della mano e ci appoggiamo sopra il pollice, in questo modo. Ok? Quindi in questo caso è l'elemento fuoco, che è un po' l'interruttore, diciamo, delle mudra, che lavora diminuendo lo spazio nel nostro corpo. È molto utile in caso anche di vertigini e di mal di mare. Ok? Shunya in Sanskrit significa vuoto, spazio, apertura. Questo è per il male alle orecchie. Un'altra mudra che vi propongo, poi ne troverete di più nella guida. Troverete per il mal d'auto e il mal di mare, per la rabbia, per l'allergia, l'ansia, il nervoso e il panico. Ve ne vorrei far vedere una per la tristezza. Visto che d'inverno capita spesso di avere questa sensazione un po' di tristezza. Allora vi propongo Hansi Mudra, che è la mudra del sorriso interiore. È una mudra che mi piace particolarmente. Palmi rivolti verso l'alto, il migno rimane disteso e portiamo i polpastrelli di pollice indice medio anulare, cioè le altre dita, a contatto tra di loro. Rilassiamo, chiudiamo gli occhi, portiamo l'attenzione al respiro. Proviamo a osservare in particolare dove sentiamo maggiormente andare il nostro respiro e la nostra attenzione. In genere questa mudra lavora in particolare sulla parte superiore del torace, portando un senso di leggerezza e di gioia. Consiglio di tenere questa mudra almeno 5 minuti. Ultima mudra per il dolore alle spalle, che è una cosa che mi sta affliggendo parecchio in questi anni, direi, a questo punto, neanche in questo periodo. È una meditazione che va tenuta un pochino ed è una meditazione asimmetrica. Allora, per quanto riguarda la mano destra, le dita sono sistemate in modo che il pollice, l'indice e l'anulare si tocchino tra di loro, mentre il mignolo e il medio sono distesi. Ok? Quindi medio e mignolo distesi e le altre dita si toccano. E lasciamo la mano appoggiata con il dorso appoggiato sulla coscia e il palmo rivolto verso l'alto. Le dita della mano sinistra invece sono sistemate in modo che la punta dell'indice sia appoggiata alla base della seconda falange del pollice. Il pollice è appoggiato sull'unghia dell'indice, le altre dita sono distese, quindi più o meno è una specie di cerchiorino. Il pollice, scusate, l'indice si appoggia a metà del pollice e il pollice è piegato sull'unghia. E portiamo la posizione. Rimaniamo così con le dita asimmetriche, quindi con questa mudra, chiudiamo gli occhi e respiriamo. Ok, spero che queste mudra vi siano utili, ma in realtà spero che non dobbiate neanche usarle. Però insomma, in caso di emergenze potrebbero tornare utili. Vi consiglio di andare a vedere la guida sul canale di Instagram di shivaflo.it dove appunto trovate questa guida sulle mudra utili e dove ne troverete altre rispetto a quelle che vi ho fatto vedere in questo video. E ci vediamo settimana prossima. Ciao!